E' stato sottoscritto a Roma il memorandum d'intesa per il lancio di Spazio Blu, il progetto pilota del modello di senior housing in cui la componente abitativa è reinterpretata in funzione dei bisogni e delle necessità degli anziani autosufficienti, integrata dai servizi sociali e sanitari erogati sia a domicilio sia in modalità remota. Rappresenta da un lato la risposta immobiliare ai bisogni della popolazione anziana, spesso soggetta ad un isolamento crescente e spesso residente in abitazioni non adeguate ai propri bisogni. Dall'altro la soluzione alla necessità di maggiore attenzione verso la qualità della vita degli over 65, anche grazie a prestazioni e cure che evitino o riducano il ricovero ospedaliero, oltre alla messa a disposizione di spazi e attività dedicati all'invecchiamento attivo. Il progetto è realizzato da IMSS, CDP Real Asset, Policlinico Gemelli, Gemelli a casa e Investire SGR. Questo progetto ha un enorme valore fattuale e simbolico. Dal primo punto di vista sono comunque 300 appartamenti che verranno dedicati ad anziani nella possibilità di dare un grande sfogo in una città come Roma a una popolazione che sta rapidamente invecchiando. Oggi in Italia abbiamo 14 milioni di anziani a cui deve essere data una risposta ad una domanda sempre crescente di attenzione come soggetti attivi. Anziani che non devono essere istituzionalizzati, rinchiusi in case di riposo dove spesso senza stimoli perdono il senso stesso della loro vita, ma lasciati in un contesto in cui possono relazionarsi con i loro familiari, in un contesto dove possono vivere una vita piena e dignitosa, piena di stimoli, aiutati nelle loro fragilità. Quindi una casa che risponda anche alle esigenze di ambienti consoni alla loro età, con assistenza sanitaria che non li faccia sentire soli, con tutti quei servizi che rendono la loro vita piena come era piena quando erano più giovani. Dal punto di vista più simbolico, questa è una prima pietra di una serie di iniziative che spero che arriveranno in questo senso su tutto il territorio nazionale e che permetteranno di creare la base di quella nuova cultura dell'anziano come partecipe dell'economia, ricordiamo che la Silver Economy è particolarmente importante anche proprio a livello macroeconomico per la nostra economia, ricordiamo che l'anziano è alla base del sistema di solidarietà intergenerazionale che ha sempre caratterizzato il welfare italiano e quindi speriamo che questa sia una delle iniziative che poi come un buon seme si potranno diffondere su tutto il territorio. Il ruolo dell'Inps è importante in tutto ciò perché noi siamo depositari di un immenso patrimonio immobiliare che deve essere sfruttato correttamente, non solo per scopi speculativi, ovviamente essendo un'amministrazione pubblica abbiamo il dovere di far fruttare il nostro patrimonio anche dal punto di vista della solidità economica degli investimenti, ma anche da un punto di vista sociale. Crediamo che gli investimenti di scopo, gli investimenti sociali siano perfettamente coniugabili con la solidità economica della gestione del patrimonio immobiliare e in fondo l'Inps è questo, è un grande ente che è dedicato proprio alla coesione e alla protezione sociale della nostra nazione e queste sono le cose belle che ci piacerebbe fare in futuro. La prima iniziativa del progetto Spazio Blu verrà realizzata a Roma, nove edifici inseriti in un più ampio complesso immobiliare residenziale per circa 300 appartamenti che verranno ristrutturati per adattarli ai nuovi bisogni attraverso l'utilizzo della domotica e della tecnologia per favorire l'accessibilità. Saranno creati anche spazi dedicati alla socializzazione e alla salute con un'infermeria di condominio. Il progetto nasce da un'idea di Cassa Depositi e Prestiti e di Inps con gli amici di Investire che gestiranno il tutto. GAC, Gemelli a Casa, è una società che nasce nel 2019 e recentemente è passata sotto il controllo dell'Università Cattolica con Gemelli Medical Center. Noi forniremo i servizi, i servizi di assistenza infermieristica ma non solo, siamo in grado di fare specialistiche, medici specialistiche quotidiane a domicilio. Ma la cosa veramente importante su cui noi puntiamo è la telemedicina, cioè il controllo da lunga distanza sia dal punto di vista medicale sia psicologico, quindi teleconsulti, quindi aiutare le persone nel loro comfort, nella loro comfort zona dove si sentono più sereni, più tranquilli. Penso che sarà un progetto estremamente interessante per, come modello per tutta l'Italia, perché l'esigenza degli over 65 sta crescendo in maniera esponenziale e delle persone sole over 65. Quindi dare un supporto medico, tra virgolette, a pazienti non pazienti, quindi per il well-being, per lo stare bene quotidiano è fondamentale. E poi la parte psicologica che passa sia col conforto psicologico, quindi un supporto vero e proprio di professionisti, ma anche dalla parte sociale. Per cui la fondazione Gemelli Medical Center sarà un punto fondamentale, le attività sociali relative a corsi di teatro, cucina, attività che coinvolga, che coinvolga nell'esperimento, nel modello, i condomini interessati, ma anche i quartiere dove offriremo anche un servizio di ambulatorio a disposizione, ovviamente con prenotazione per evitare inutili fine, ma che darà secondo me, sarà comunque un modello, un modello replicabile in tutta Italia. Spazio Blu è un modello di intervento innovativo e attento ad una popolazione che pur avendo alcune fragilità vuole mantenere la propria autonomia, sapendo di poter contare su un intervento specialistico laddove necessario. Il Signor Living nasce come forma di soluzione abitative e residenziale a sostegno della terza età, quindi diciamo che si rivolge prevalentemente a persone in salute. È chiaro che le persone di una certa età hanno l'esigenza di essere monitorate nella loro situazione in modo costante. Il Policlinico Gemelli, che si occupa di pazienti nella fase acuta, ha da anni sviluppato iniziative per seguire i propri pazienti anche nella fase post e pre-ricovero. In questa prospettiva noi abbiamo costituito Gemelli a Casa, che è una società che, ripeto, garantisce servizi a domicilio nella fase del post-acuzia, piuttosto che non nella fase della prevenzione del wellness, daremo un supporto a questa splendida iniziativa che speriamo si possa decuplicare nella città di Roma, ma direi più in generale nel nostro paese, con un monitoraggio e un supporto assistenziale costante, anche con soluzioni a distanza, a persone che, ripeto, vivendo e condividendo questi spazi per la vita quotidiana, avranno comunque bisogno di un presidio, ripeto, sia nella fase della prevenzione che nella fase di cura di situazioni che non richiedono il ricovero, ma che consentono di essere garantite nella propria residenza con soluzioni specialmente telematicamente alzate.